Sono entusiasta di entrare a far parte di una squadra di lavoro eccezionale e di una comunità vivace da cui ho ricevuto un'accoglienza estremamente calorosa. Le criticità insorte a causa dell'emergenza sanitaria negli ultimi due anni sono state affrontate e risolte egregiamente e il parco è pronto per una nuova fase di crescita e questo il commento del neodirettore Tiziana D'Angelo al suo primo giorno di lavoro al Parco archeologico di Pestum e Velia. Nominata a seguito di una selezione internazionale Tiziana D'Angelo si prepara a gestire i due siti magno-greci della provincia di Salerno per i prossimi quattro anni. Le sensazioni sono delle sensazioni ovviamente tutte positive, molto entusiasmo, tanto anche orgoglio e consapevolezza ovviamente della responsabilità che mi è stata affidata e dicevo entusiasmo proprio di venire, di entrare a far parte comunque di una splendida squadra di lavoro, di essere raccolta da una comunità molto calorosa. Da dove partirà? Che priorità si è data? Ci sono ovviamente tutta una serie di priorità sia sul sito di Pestum sia su quello di Velia. Velia sarà sicuramente una delle nostre priorità, vogliamo continuare l'opera di valorizzazione del sito e attraverso quindi una serie di progetti da una parte di monitoraggio dell'area archeologica ma anche una revisione e riqualificazione di alcuni spazi espositivi e di alcuni percorsi espositivi. Sul fronte invece di Pestum sicuramente il nostro obiettivo è quello di portare a termine il riallestimento del Museo archeologico nazionale che appunto è in fase di chiusura e anche portare avanti dei progetti importanti come quelli della riqualificazione dell'ex fabbrica Cirio. In vista dell'estate invece avete già pensato a qualcosa di particolare? Questo è un momento di ripresa per il parco per diverse ragioni. Da una parte stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria, dall'altra anche l'arrivo appunto della stagione primaverile e poi quella estiva ci consente di organizzare un programma quindi che consenta una vera e propria riapertura in un certo senso dell'area archeologica e del museo. Quindi adesso stiamo stendendo un programma con collaborazioni anche con dei gruppi culturali sul territorio quindi da concerti a rappresentazioni teatrali, a festival. Direttore un parco che si potrà visitare in tutta sicurezza già a partire da Pasqua e Pasquetta? Assolutamente il parco è già pienamente visitabile in completa sicurezza quindi sia l'area archeologica di Pestum sia quella di Velia e il museo e ovviamente colgo anche l'occasione proprio per invitare il nostro pubblico a venirci a trovare a Pasqua e Pasquetta siamo aperti ovviamente tutto il giorno e anche approfitto per ricordare delle nuove aperture gratuite sempre per la prima domenica del mese quindi vi aspettiamo per il primo maggio per la prima domenica di maggio.